Buonasera a tutti, intanto grazie mille, le presentazioni mi sa che sapete bene io sono una giornalista di Vanity Fair, mi chiamo Stefania Saltramacchia, siamo molto contenti di essere qui, ormai è uno dei nostri appuntamenti che torniamo a Torino con un ospite speciale, lei immagino che appunto non c'è bisogno di presentazioni, direi l'avete vista già anche ieri, Andrea cosa dici? Io sono felicissima, anzi caspita che coraggio che siete tornati a vedermi secondo giorno, ma sono molto contenta, ho scoperto questi luoghi, sono affascinatissima. Da quanto tempo non tornavi a Torino prima? Da un sacco di tempo, io ho avuto un paio di fidanzati di Torino, quindi c'è un mezzo, uno di Moncalieri, carinissimo a Moncalieri, e uno di Torino, e ho sempre pensato, quando finiva la storia, mi dispiaceva lasciare la città, non loro. Quindi puoi capire quanto, esatto. No, è bellissima, poi si mangia bene, va bene, abbiamo parlato tanto, si mangia benissimo a Torino, una delle città dove si mangia meglio in assoluto. Non so se voi ve ne rendete conto che siete di Torino. Non ve ne rendete conto? No ragazzi, cioè, noi che viviamo intanto in giro, non ho sbagliato un piatto. Come stai allora intanto, oltre appunto ad aver parlato di cibo, che alla fine è l'argomento per rompere il viaggio di tutto, perché appunto, come dicevamo prima, è un periodo pieno per te, tu sei stata ieri qui proprio a Torino con il tuo spettacolo, 40 e sto, data, numero? Allora, a 72 date chiudo, quindi forse 67, data 66, 67 forse, è stato bellissimo, un sacco di persone interagivano, a un certo punto volevo litigare con un paio che interagivano troppo, però quello è il mio ragazzo. Però no, è un bel periodo, è un periodo in cui aspetto di poter dormire un pochino, però sono quelle cose che ti lasciano capito, ah, sto facendo qualcosa. E poi a te piace sempre fare tante cose insieme. Sì, se no mi annoio e la testa pensa, è finita, sto morendo. Appunto come appunto teatro, radio, tv, libro, di cui adesso parleremo. Cosa è che ti piace di più di contaminare, fare appunto così tante cose diverse, spesso anche insieme? Guarda, il teatro l'ho scoperto proprio da performer un anno e mezzo fa quando è partita la tournée, perché ho sempre fatto spettacoli, ma o in gruppo, in coppia, e invece in questo modo ho proprio visto l'Italia, è stato bellissimo. Devo dire che sto già pensando al secondo spettacolo, cosa che non avrei mai detto, perché a metà tournée ho detto non lo farò mai più, perché è difficilissimo, credetemi. Fare teatro è proprio una passione, perché vai nei paesi, perché quando mi hanno offerto di fare lo spettacolo mi hanno detto scrivilo. Io ho detto lo faccio, però voglio fare tutti i paesi più piccoli, dove di solito insomma è difficile andare con gli spettacoli, tanto sono da sola, quindi il prezzo è più contenuto, perché sai quell'idea di dire voglio fare tipo la Giovanna d'Arco dell'arte, una cazzata, perché poi alla fine il teatro quando viene chiamato va, ed è complicato. Ora faccio una polemica sui trasporti italiani, cioè è una roba incredibile, non ci sono mezzi di trasporto, i treni arrivano fino a un certo punto, poi ci sono, cioè devi avere per forza una macchina, che è una follia, vabbè, non voglio lamentarmi e basta, comunque il teatro è meraviglioso, lo rifarò, la fatica si sente e quindi quando vedete un artista che fa teatro si merita tutto, perché guadagna veramente pochissimo, a differenza di quello che potrebbe guadagnare facendo cinema o pubblicità, lo dico per gli artisti tipo quando vedete Favino a teatro, quando vedete Edoardo Leo a teatro, quando vedete, adesso sto dicendo anche nomi che sicuramente sono, Luca Argentero a teatro, lo fanno per passione, enorme passione, quindi rispettissimo. Era come te l'aspettavi, cioè più difficile, più facile? Più stancante, ma molto più divertente, per questo lo vorrei fare, perché la gente ti fa ridere di più. La televisione finisce subito, il teatro continua, quindi è una roba che tu dici, ah vedi, dopo lo spettacolo a Milano, mi si sono bloccati i messaggi privati su Instagram da quando ne ricevevo, probabilmente ogni ragazza che era lì mi ha scritto, ed è stato bellissimo, poi a Torino ci sono proprio scritti con qualcuno di voi, ed è qualcosa che con la televisione non ti succede, perché con la televisione ti dicono brava, oppure con la radio ti seguo, col teatro c'è un racconto, ma è un racconto di vite, mi raccontano pezzi di vite ed è bellissimo, è una roba impagabile. Ma perché tu racconti anche tanto, il tuo spettacolo per chi l'ha visto lo sa, io l'ho visto, come dicevate voi, ti dai tanto in questo spettacolo, c'è uno spettacolo molto anche intimo, personale, poi tu parli di tante cose, però dai anche tanto di te, quindi sei anche tu che dai tanto. Sì, senza filtri, però questa cosa è, guarda, devo dire, ne valsa proprio la pena, cioè ho perso dieci anni di vita, ma ne valsa la pena. Ti chiedo un'altra cosa dello spettacolo e poi ti chiedo l'altro, ecco, tra tutte queste date che hai fatto, quindi hai incontrato tantissima gente, come dicevamo anche prima, come racconti anche tu a teatro, c'è proprio il tuo pubblico che viene a teatro, non è il pubblico che normalmente sono gli abbonati o che sono abituati o che gli piace proprio andare a teatro, ecco, incontrando il tuo pubblico a cui tu di solito dai comunque tanto spazio anche sui social, in radio, com'è andata? Cioè che incontri, hai ricordi dei begli incontri che hai fatto in giro per l'Italia? Guarda, ho incontrato, è uno spettacolo per tutti, uomini e donne, non c'è differenza, però devo dire che il mio pubblico è maggiormente femminile, quindi una percentuale altissima di donne e un po' meno di uomini. Stasera qui invece, stasera invece è qui la percentuale, quasi pari, quasi pari. Ho scoperto che le vite si assomigliano tutte, tantissime ragazze mi hanno fermato, mi hanno scritto che le cose che sono successe a me, su cui rido, sono successe a migliaia di persone, poi magari alcune si sono fermate, alcune hanno fatto dei passi indietro. Nelle piccole province è più difficile, se sei divorziata magari non hai figli oppure hai un figlio divorziato, oppure hai un compagno o una compagna, quando sono nelle piccole province mi raccontano delle storie di vera resistenza, di vera battaglia. Io sono stata paradossalmente fortunata, vivo in una grande città, faccio un lavoro che mi permette di essere anche sopra le righe. Cioè, nessuno si stupisce se divorzio, se mi innamoro di una persona che è, insomma, stupenda, ma sensibilmente più giovane di me. Cioè, va bene così, diventa parte dello show, no? Uno dice, vabbè, questa la vede su un giornale finito. Quando sei in una piccola città e la tua vita prende una forma diversa da quella che la gente è abituata a vedere, allora diventi veramente una combattente, perché resistere e dire vaffanculo, è proprio una battaglia. Io non sai quante toni ho incontrato così ed è stato bellissimo, perché per me è diventato un modo di raccontare. Per loro invece era un modo di dire, vedi che non sto sbagliando, e non lo sapevo. Io ho scritto questo spettacolo per ridere, anche un po' per esorcizzare la cosa. Era un brutto momento, l'ho scritto, detto, facciamolo. Poi la vita si è rilluminata e nel frattempo però questo spettacolo ha funzionato facendo vedere magari che siamo tutte sulla stessa barca. Ovviamente sì, per chi non l'avesse ancora visto, tu lo dici già nel titolo di cosa stiamo parlando, appunto tu stai proprio chiara. Tu parti da lì e dici 40, che sono i 40 anni, 40 e sto. Che va bene così, che proprio va bene, sono 40 e sto e non mi muovo. No, ma in realtà poi sono 41, cazzo. Tutte sedate alla fine, a fuori a riaggiungere. Sono cresciuta nel frattempo, è successo, però no, sono molto contenta, mi sento piena d'affetto e sarà un problema per il secondo spettacolo, non so perché... Ma ci sei già lavorato, hai già un in mente qualcosa. Non ho proprio l'idea come è successo con questo, non ho proprio l'idea, sapevo soltanto come volevo raccontarlo, ma insomma c'è sicuramente la voglia di fare una roba che non è simile perché è impossibile, non è che posso raccontare la mia vita un'altra volta, a meno che non mi succeda tipo che vedo la Madonna e che ne so, riesco a cominciare a volare e allora lì dici ok, lo racconto, ma no. Però trovare questo affetto è incredibile. Non so come potrò fare una cosa del genere ancora, darò dei soldi alla gente che viene. Poi dici chi torna per la seconda volta ha un bonus. Un po' a 10 euro. Invece no, per proposito di prime volte, in questo libro che in mano appunto è contrapasso, immagino che molti che siete qui l'avete già letto, tra l'altro non è il tuo primo libro, ma il tuo primo romanzo. È cominciato in modo, diciamo, il tuo primo romanzo non è un romanzo facile, è un romanzo non che turba possiamo dirlo, perché appunto… Violento. Violento, sì. Cioè non è di quelli che… cioè dopo che l'hai letto, mentre lo stai leggendo ti fa pensare. Appunto il titolo è contrapasso, immagino che appunto lo conosciate in molti se siete qui. Ecco, tu questo libro l'hai scritto durante il lockdown, quindi in un periodo, come hai detto prima, cioè come hai detto più volte, non facile, appunto come si vede anche dal tema in cui è riflettuto. Pensi che se non ci fosse stato quel momento lì, sia personale che, diciamo, del mondo, ci sarebbe venuta questa storia qui? No, no, assolutamente. Infatti molti mi chiedono la parte 2, il sequel. Esatto, quello che infatti è un teatro. È difficile però, perché io ci ho messo veramente due anni a scriverlo, anche perché il world building è inattaccabile, perché per me che leggo questo solo… la mia libreria è fatta solo di distopia e horror, e il mio ragazzo purtroppo lo sa, era necessario… e io soffro molto quando leggo dei libri e ci sono degli errori nel world building e soprattutto nella struttura della trama, mi impazzisco. Qual è un'errore che ti fa impazzire, che magari trovi… La facilità del far cambiare idea a qualcuno o del plot twist, che è una cosa che dico ma perché? Divento matta. Io ho lavorato tanto sul world building, un anno solo su quello, e poi ho sviluppato la storia. Infatti molti dicono che sembra un libro tradotto, lo capisco, perché in realtà sono partita dall'idea che era forte, quindi se ammazzi un animale muori nello stesso modo, però da una struttura. E poi ho sviluppato, non sono andata di pancia, sono andata di testa. Infatti le critiche che mi hanno fatto, che condivido tutte, è incredibile, perché… poi le critiche le ascolto molto, perché quando te le scrivono, anche se qualcuno magari lo fa perché a pelle non le piaci, però si attacca a qualcosa sempre di vero. Cioè nel mezzo magari c'è dell'odio, io so parlo di haters, però nel mezzo c'è dell'odio, ma in quell'odio un filo… Qualcosa c'è, qualcosa c'è. Poi se non c'è è matto, ma sti cavoli. Mi hanno criticato la profondità dell'amore dei personaggi, che c'è una storia d'amore, che è verissima perché io non volevo mettere la storia d'amore, non mi interessava la storia d'amore, io volevo solo raccontare il mondo. Poi però sentivo che mancava un pezzo per convincere i personaggi a fare qualcosa, perché è l'unica cosa che ti convince se… a meno che non ci sia dall'altra parte tipo una montagna di soldi o la salvezza del mondo, cosa che io nel libro non potevo fare, era l'amore. E quindi ho messo un amore che non è il mio. Ed è l'unica cosa che se potessi rifarlo riscriverei. Cioè cosa toglieresti o cosa aggiungeresti di questa parte qui? Toglierei la storia d'amore completamente, lascerei i personaggi a cui sono legatissima e li ho voluti tutti così e mi piacciono tantissimo. E aggiungerei una cinquantina o sessantina di pagine per sviluppare anche dei passaggi, perché a un certo punto giustamente la casa editrice ha detto guarda, già è un argomento complicato, difficile, perché la distopia in Italia ha uno zoccolo duro ma molto piccolo e io ci stavo appena entrando fra l'altro da conduttrice televisiva radiofonica, molto pop, molto sorridente, era una roba talmente nuova che era dura. Ha detto fallo almeno sotto le cinquecento pagine così la gente non si spaventa perché poi magari chi l'ha preso solo perché mi conosceva ci è rimasto un po' male. Ma come muore della gente? Muore anche male. E quindi ho tolto un po' di pagine, non ho sviluppato alcune cose. Ora se potessi riscriverlo svilupperei sicuramente molte più cose, però ormai questa è andata ed è un gioiellino. Quando è un po' fusa e non ho fatto promozione. È stata durissima, infatti ci siamo fermati un mese e mezzo senza promozione. Ma c'è stato tanto passaparola. È stato tutto passaparola. Infatti io pensavo, ho perso l'occasione, mi dispiace. Tutto ci ho lavorato così tanto. E invece poi nel giro di un anno è diventato bestseller e questa cosa mi ha scioccata perché non... perché non c'entro niente io. Cioè è tutta la gente che lo fa. Quindi sono felice. No, perché appunto come dicevi, l'idea da cui tu sei partita, che appunto questa qui, che se tu uccidi un animale, automaticamente succede a te la stessa cosa, cioè ribalta proprio il punto di vista, come ci hanno abituato da sempre, come se l'uomo è prima, cioè prima di tutti gli altri, in cima alla piramide. Questa idea della piramide per cui l'uomo può, gli altri, i bisogni dell'uomo vengono prima. Cioè è molto forte come... Sì sì, fra l'altro molti mi chiedono se sono vegetariana. Non so se c'è qualcuno di vegetariano qua. Una, due. Io allora adesso, adesso da un po' di mesi mi sto avvicinando molto a essere vegetariana perché ho letto Foyer, se nulla importa. Non so se l'avete... A me mi ha scioccato, quel libro mi ha devastata. Io non pensavo di poter rimanere così ferita nel leggere un libro. È un genio, è un fenomeno. E quindi ho smesso di mangiare carne... No, ho smesso. Adesso mangio solo carne grass fed, tipo una volta al mese, ma perché ce l'ho surgelata nel congelatore. O è quella o è niente. Cioè non... non mi avvicino neanche lontanamente. Ai tempi, quando ho scritto questo, per me era... era l'idea forte. Non... non... non rinunciavo... cioè ma ho sempre mangiato tutto. E mi colpì quando una ragazza vegetariana mi scrisse e mi disse ok hai fatto un bel libro. Però... perché aveva letto un'intervista che non ero vegetariana. Ho detto però tu ti sei appropriata di una battaglia nostra senza portarla avanti. ho detto cazzo. Ho detto madonna. Ho detto cavolo è vero. Cioè non... non... non era voluto questa cosa qua. Però ci poteva stare. Ora lo sto diventando quindi sono a posto. Perdonata. No, anche perché tu appunto... è anche un modo di parlare di rapporti umani come... appunto come... come spirito. Se pensi ogni nostra giornata qualsiasi cosa noi facciamo abbiamo sulla coscienza delle vite. Cioè adesso io... No, è qua plastica, plastica. Sì, ma tutto. Però questa cos'è secondo te? È lana? Lana. Eh, lana. Va bene. Le hanno... sapete che le pecore in realtà sono degli animali che sono state create che in natura non ce la farebbero perché la lana crescerebbe troppo. Quindi pensate... questa cosa qua comunque sta facendo soffrire sicuramente. Sì, sì. Comunque tutta la conseguenza e... Ma la pelle e... medicinali, trucchi, tutto quello che... noi anche quando camminiamo qualcosa... cioè uccideremo qualcosa. Cioè è una roba incredibile. Sì, se dovessimo pensarci ogni secondo, ogni attimo... È terribile. Chi ha mangiato gli agnolotti oggi? Rovinare, sì. Chi ha mangiato gli agnolotti? Ha fatto fuori un animale? Male, tra l'altro. Solo che non vedendolo... Sì, siamo un po' ipocriti. È terribile, terribile. Lo so. Adesso ogni volta che ci ripenso dico... Eh, sono romagnola. Quanta carne alla braccia ho mangiato. E lo sapevo però. Pensa che quando ero piccola a San Patrignano, noi avevamo le stalle e ci portavano i bambini a vedere i vitellini in gabbia. Ma io da piccola non me lo chiedevo perché erano in gabbia. Dove finivano poi, no? Sì, cioè le mucche partorivano, poi le spostavano subito i vitellini in gabbia. Questo è appena nato ed era in gabbia. E noi li accarezzavamo ed ero felice. Quindi, se poi non c'è qualcuno o un qualcosa che ti fa capire che quella roba lì è disumana e quel dolore ti strappare un figlio alla madre per prendere il latte che non è una roba che spetta a noi, che anche il nostro corpo poi fa una fatica terribile a digerire i latticini e tutto il resto. Cioè se tu poi non lo sai... Io da piccola sono cresciuta felice di poter andare a carezzare i vitellini che erano in gabbia. Quindi la sospensione anche del giudizio che abbiamo è dovuta anche da come ci hanno cresciuto, non è colpa nostra. Poi magari quando cresciamo dobbiamo informarci un po' di più, però sai... No, no, no... Poi molto spesso abbiamo tutti nelle vite, facciamo tante cose insieme, non ce la facciamo. A volte magari è anche mancanza di tempo, che non è una giustificazione. Però devi anche avere l'occasione di informarti. A me è capitato per sbaglio ed è successo. Se non c'è l'occasione di fermarti non è colpa. Non so come dire, so che è colpa, ma nello stesso tempo sei in una società che ti fa crescere pensando che non è colpa tua. Assolutamente. E nei rapporti umani quanto è difficile fare i conti con tutto questo? Cioè che ogni cosa ha una conseguenza, che non sei solo tu. Perché questo libro ti insegna comunque che tu non sei al centro, che comunque non dovresti essere al centro di tutto. Eh, in realtà i rapporti umani poi sono un'agonia. Ho cercato di... Non so se qualcuno di voi la... Scusa, faccio una domanda giusto per lo spoiler. Chi non l'ha letto? Porca troia! Ok, va bene, perché ci sono... Allora, vi dà fastidio se spoilero. Siamo qua a chiacchierare o lo leggerete? Ditemi la verità. Potresti leggerlo? Potresti. Allora niente, no. Allora no, non te lo dico. Vabbè. Allora, allora no. Facciamo un film, ti metti un bip. Allora, in questo libro era un periodo molto buio, brutto 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 della mia vita, lockdown, divorzio. E tu hai detto avevo un caos dentro, del disastro. La morte, il mio psicologo lo vedevo soltanto online, quindi ti puoi immaginare a che punto stavo e quindi ho scritto anche le cose che in analisi cercavo di tirare fuori ed era l'unico modo per cercare di buttarle fuori. Infatti cerco sempre, in ogni personaggio che sia cattivo o buono, ha un pregresso. Ci sono dei capitoli che potete tranquillamente saltare se non vi interessano, però sono quelli in cui mi sono impegnata di più, quindi leggeteli. Dove racconta perché è diventato così. Perché noi diamo sempre per scontati, quello è uno stronzo, ok, va bene, magari è uno stronzo, va bene, ci sta. Però chiediti perché è diventato così. C'è sempre un motivo perché diventa una persona cattiva, almeno come la vedi tu, o comunque spreggevole. C'è sempre un percorso. Da dove arriva questa persona? Da dei dolori, da delle violenze, da una catena che non ha saputo spezzare. Infatti la domanda che in realtà gira nel libro è tu, nella tua vita, sei il buono o il cattivo? Per te sei sempre il buono, certo, ma fermati a pensare. Per gli altri? Chi sei tu? Cioè perché tu per forza sei il buono? È un po' quello che mi sono sempre chiesto. Ok, io penso che quella persona sia spreggevole, ma a un certo punto mi sono chiesto, Dio, e se fossi io il mostro? E dici, cavolo, potrebbe. Certo, è cambiato qualcosa da quando hai messo il nero su bianco? Queste persone penso sempre che siano spreggevoli, sono poche, sono due, due, che mi hanno fatto soffrire moltissimo, su cui ho cercato di lavorare perché il dolore quando ti attanaglia ti toglie la vista. Quindi se tu riesci a calmare il dolore, l'odio, che l'odio è una roba terribile, è una sensazione che ti porta via e basta, non ti dà niente, l'odio e il rancore non ti danno, sono sentimenti che ti bloccano e sei tu che muori. Quindi ho cercato di trovare un modo per non sentire il dolore e il risentimento ed era capire chi erano loro, chi sono loro, perché sono arrivati loro. Penso sempre che nei miei confronti siano delle brutte persone come si sono comportate, però capisco perché sono arrivata a fare quello che hanno fatto, a farmi del male. Quindi ok, non le perdono, ma lo so. Il dolore, credimi, è il minimo. Cioè quando le penso, le penso adesso non con tenerezza, è una parola sbagliata, però con la pietas proprio, che dici vabbè dai ok, a posto così. E poi non è giustificare. No, 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 è toglierti il peso a te, perché c'è proprio una questione di egoismo, se tu capisci, quando tu non hai risposte il dolore ti uccide, quando tu non sai che cosa succede, tu hai mal di testa, non sai che cos'è, puoi pensare di morire da un momento all'altro, non lo sai. Se ti dicono, guarda, è semplicemente un'emicrania che arriva dal fatto che sta cambiando il tempo, ma come ti cambia la giornata? Si, dai un nome alle cose, le metti lì, metti quella casella lì, è finita, te ne liberi. E' più leggera poi. Totale, sei viva. Oggi appunto 40 sto, sono passati, quindi siamo 41. Siamo ancora 41. Il dolore incasellato. Contenuto. No, a parte gli scherzi, come pensi di essere oggi in un momento in cui tu dici io, tante cose le ho capite, sono andata avanti, ho metabolizzato tante cose, oggi sono, dove mi trovo nella mia scala della vita? Io sono la persona che volevo diventare, sono proprio questa, in questo periodo sto facendo i conti con il fatto di aver raggiunto dei traguardi e di non aver capito se è rotto, sicuro. Di non aver capito, cioè se è rotto è rotto, te lo dico è rotto. Cioè sai quando io, non è che non pensi mai di raggiungere dei traguardi, però, però sai, sono lì e tu dici lavoro per arrivarci, poi a un certo punto mi sono resa conto che ci sono arrivata e non so che altro traguardo pormi. ci sono delle cose che ho capito che non erano per me, che veramente lo spettacolo è serio, nel senso alcune cose ho capito che le volevo, ma non sono nella mia strada. Non è vero che tutti possiamo fare tutto, ma è vero che possiamo impegnarci tanto per riuscire a fare il massimo che abbiamo dentro, per raggiungere dei limiti o comunque per superarli o per diventare migliori di come siamo. Quindi adesso sono in un momento in cui sto capendo quali sono gli altri traguardi che voglio ed è strano perché non erano quelli che per anni ho cercato di raggiungere, che sono una casa, che io non pensavo di riuscirci a comprarmi una casa, poi è successo ed è bellissima e sono fiera. avere una relazione con una persona molto onesta. So che è buono da morire, non lo dicessi, perché è buono. No, no, perché abbiamo una relazione pura e questa è una roba stupenda. L'onestà è troppo sottovalutata. Ho incontrato tanta gente che crede che l'amore sia lo scontro. Molte persone mi dicevano, madonna di te staremo benissimo, litigheremo sempre. Mi dicevo, stavo male, mi mancava il fiato, ma c'è una concezione di felicità che è folle. Sì, è come se dovesse sempre essere una battaglia, un dimostrare, un... Cioè vincere, sempre vincere, io non voglio vincere su nessuno, io voglio stare bene. Cioè già quando sei fuori da casa o dalla relazione devi comunque tenere duro perché è una vita complicata. Ma io in casa voglio essere abbracciata, voglio essere capita. Della prima volta, forse perché me lo sono concesso io, era un momento giusto e mi andava bene così. Quindi è strano, è strano quando raggiungi degli obiettivi perché gli obiettivi sono il motore che ti fa andare avanti nella vita. Stai scrivendo ancora? Hai voglia di... Allora sto scrivendo, mi sono messa a scrivere un altro libro e sempre ovviamente dai toni... Non è un romanzo l'amore, ecco... No, non c'è l'amore, a me ne frega un cazzo di raccontare l'amore, non so se... Lo vuoi togliere pure da qui? Cioè io l'amore lo vivo, cioè lo vivono tutti l'amore, bene o male, che sia doloroso che non sia doloroso. Quindi perché ve lo devo raccontare io? Ma che cosa può avere di più di quello che può aver raccontato uno scrittore ma molto più bravo di me, ma chiunque più bravo di me? E invece credo di essere abbastanza brava a raccontare almeno delle tonalità dell'horror o del distopico, ma perché io ci sono sempre cresciuta, pensa che quando ero piccolina e a San Patriano potevo uscire la sera perché non era pericoloso, quindi io veramente la notte la potevo vivere come mi pareva in comunità. Io uscivo la notte e non c'erano luci, c'erano pochissimi lampioni, quindi tu immagina una collina veramente illuminata con delle fiocchissime luci lontane fra una e l'altra e io giravo. Non c'era qualcosa di faccia paura, sapevo le cose che dicono i bambini. Niente, il nulla perché nel buio mi sentivo al sicuro, io dicevo è qui che nessuno mi può trovare, cioè il mostro, il cattivo, ma qua ma che deve avere i raggi X, i mostri perché vedono al buio, ma chi lo dice che vede al buio? E io mi sentivo così al sicuro, tutt'ora quando vado in bici o comunque quando adesso in bici ci vado meno, devo dire la verità perché abito vicino al lavoro, ma quando andavo in bici al lavoro, che abitavo più lontano, quando mi faccio le passeggiate di notte e entro in un cono buio, perché non so se lo sapete, a Roma purtroppo la luce salta spesso nelle strade, quindi molto spesso è il buio totale. Oddio mi sento in pace, io dico oh santo cielo, oh santo cielo, grazie e sto bene nel buio totale e quindi quella roba lì ce l'ho sempre avuta dentro e sono brava a raccontarla perché mi piace, mi piace tanto l'horror o il distopico, è un modo per controllare come siamo messi dentro. Hai dei tuoi preferiti, parlando di horror? King, King è incredibile, anche se si sputtana quel bastardo perché lui vuole sempre comprarsi delle ville nuove, quindi ti fa dei libri di merda perché non è vero che è un fenomeno su tutto, lui non ne frega un cazzo, lui ti fa 5-6 libri di merda, porca puttana, tu li leggi e dici ma davvero? Se fosse un parente lo chiamai dai zio, ma che cazzo fai? Ma ti do una sberla? Così vorrei dirle. Poi a un certo punto si ripiglia e ti caccia il capolavoro e dici ok va bene, ti perdono e allora dopo l'inculata viene dopo e dopo il capolavoro. King e poi invece Thomas Olde, ne parlavamo prima, c'è un secondo cognome, non so come si pronuncia quindi non lo pronuncerò, che è un autore giovanissimo, pensa, io ho letto il suo primo libro per sbaglio perché è un libro, io vado sempre nella sezione horror delle librerie, purtroppo sono molto piccole, ce n'è una a Roma che è molto servita. Perché in Italia non abbiamo una grande... Eppure siamo i primi, noi siamo stati i primi a raccontare l'horror, poi è stato preso dall'America, l'hanno trasformato in splatter e si è perso totalmente il sapore dell'arte e questo è terribile perché lo splatter non è horror, lo splatter ti fa schifo, l'horror è una poesia, è una poesia che ti fa palpitare il cuore e ti fa avere paura, il genere horror è l'unico che ti porti dietro per tanto tempo, questo libro non è horror però è un forte distopico, ti lascia una sensazione dentro che almeno per due o tre giorni ci pensi se cammini e vedi una formica ti ricordi il modo di non schiacciarla, capito? Cioè almeno ci pensi, l'horror fa questo, l'horror te lo lascia anche per anni perché ti sciocca. Ti segni in alcune cose, penso che tutti da piccoli o comunque abbiamo una cosa che... Ti ha segnato per sé, cioè ci sarà un horror che vi ha segnato per sempre? Vedi, Dario Argento, ma pure, vabbè, il Hit, l'esorcista, quelle sono sensazioni, io vi posso dire adesso, boh che ne so, dimmi una storia d'amore, un film d'amore, vedi che non ti ricordi? Sì, certo. Ragazzi, adesso io, puoi dire piacere, perché ti piace il film ma non ti lascia quella ferita, che non è una ferita, perché adesso dico ferita poi uno diceva che cazzo, però è un segno che è una sensazione che tu non hai realmente nella realtà, cioè a meno che, cioè quella cosa con i fantasmi, i fantasmi non esistono, lo sappiamo tutti, ma l'horror ti fa credere che esistono, l'amore esiste, quindi un libro d'amore ti racconta solo l'amore. E comunque Thomas Holde, cercatelo, in italiano tradotto soltanto ex, con l'H iniziale, ex è la maledizione, leggetelo, è incredibile, è a un livello di narrazione che io non vedevo da anni, credimi, qualcosa da brividi, scritto bene, a un ritmo, infatti lui l'ha scritto e ha avuto quattro editor, lo capisco, perché gli incastri sono incredibili, un'idea meravigliosa e King ha fatto a lui la bandella, infatti ha scritto che è un capolavoro, ha comprato i diritti del libro, la Warner o l'HBO, non mi ricordo, e stanno producendo la serie, pensate, in Italia il secondo e il terzo libro non l'hanno tradotto, io adesso me li sono comprati in spagnolo per poterli leggere, una roba che mi fa orrore, perché questo ragazzo sta diventando uno degli esponenti horror più importanti di giovane età che abbiamo nel mondo, perché lui fa i tourney mondiali, cioè vedi i suoi video di presentazione sono allucinanti, in Italia neanche lo traducono. Ma poi magari ci arriverà la serie. Arriverà la serie e poi lo traducono poi. E tu dici, ma anche se uno guarda Netflix, quanto funzionano le serie horror coreane? Cioè, vuoi avere un filo di intelligenza e di vedere un attimo il futuro, ma comincia a fare, a avere uno zoccolo duro italiano, producilo con eleganza, sono molto fiera di questo libro perché la copertina è elegante, perché la promozione è stata elegante. Ora c'è da qualche mese purtroppo un interesse di una casa di produzione coreana sul concept, loro vorrebbero il concept, non il libro. Giustamente perché così ci fai quello che vuoi, perché questo ha un inizio e una fine, se vuoi fare delle serie fai quello. Io ci soffro molto perché... quindi diciamo che tanto io l'ho messo sia in C.I. in Europa che in America, quindi nessuno può toccarlo. Stiamo temporeggiando e spero che si riesca a fare il libro, non soltanto il concept. Però vedi, cioè, dalla C.I. in Italia non c'è, eppure la nuova generazione quella cosa lì la vorrà leggere, perché quando arriva Halloween i cinema sono pieni solo per gli horror fatti bene e ancora... no, non ci arriviamo. No, no, su questo arriviamo sempre dopo. Quindi tu stai scrivendoci spoiler o una... Sto scrivendo... Non c'entra nulla con contrapasso... No, contrapasso due aspetto che mi lasci il mio ragazzo, perché devo essere totalmente depressa. Devi essere veramente triste. Se non mi lascerà mai, non ci sarà mai un contrapasso due, sappiatelo. Spero che non ci sia mai contrapasso due, speriamo di no. Quindi perché ho bisogno di soffrire molto per scrivere quella roba. Ho visto quanta tristezza c'è lì dentro. Cristo, non ce la facevo più. Infatti poi, io l'ho finito, che ci eravamo conosciuti da poco, io lo dovevo chiudere. Io avevo paura che rovinasse un po' il finale. Sì, perché poi cominciavo ad essere felice, a vedere la luce della mia vita, ma forse l'amore esiste. Quindi cosa facciai? Tornavi a passeggiare al buio da sola per Roma. Capito, io ero contenta. E io dicevo, porca buttana, io devo chiudere il libro. E non riuscivo a consegnarlo. La casa editrice si sono incazzati perché ho riconosciato molto in ritardo, perché non avevo voglia di tornare nella depressione. Infatti Robert, sul suo volto poi l'ho modificato. Ho visto che responsabilità. Stavi per rovinare un libro. Mamma mia, che roba ragazzi. Io posso scrivere solo quando sto molto male queste cose qua. Però sì, sto scrivendo altro. Comunque sempre di genere. Sempre di genere. Mi hanno chiesto, giustamente, perché poi uno deve anche cercare le case editrici di vendere, perché mi hanno chiesto di scrivere un libro sul tema delle donne, prendendo spunto dal mio spettacolo, ma no. Non ti viene. T'ho detto tutto lì, tutto quello che dovevi dire, lo dici in quel modo lì. Potrebbe diventare un film, una serie, certo, però il libro non ha per me, per il mio pubblico, cioè non saprei cosa raccontare che uno non può vedere vedendo teatro. Perché tanto è una pacca sulla spalla, non c'è un'illuminazione in quello spettacolo. Sono io che ti dico oh, a me queste cose sono successe, però sto bene. Te? Ah, sto bene anch'io. Cioè non c'è un'illuminazione, è una roba per stare fra amiche. Quindi perché devo fare un libro? C'è anche tanta musica, però stavo pensando a tutti. C'è! Lì hai messo una colonna sonora. Quando scrivi invece non... Bruce Springsteen. Sono quello. Qua c'è Bruce, sì, sì. Va anche nella collina c'era Bruce. E torna sempre a Bruce. Guarda, io non sapevo se... dovevano essere solo 20 date, non sapevo se ci sarebbe stata la possibilità di rifare un altro spettacolo nella mia vita. Io ho messo tutte le cose che mi fanno ridere, che sono quella roba al limite col trash che adesso è diventata arte. Quindi, e credimi, c'erano altre robe che ho lasciato stare perché se no uno non può rapire le persone. Tu sei nostalgica in generale? Cioè ti piace? No, non sono nostalgica ma mi diverto. Quindi, cioè, ci sono delle canzoni che quando ascolto mi ricordo... cazzo quanto mi sono divertita i tempi. E Max Pezzali lo adoro perché è uno che non si vergogna a dire io sono stato uno sfigato e quindi... Ah, totale! Cioè non tutti fanno i fighi. No, che poi adesso Max Pezzali con i suoi concerti e cioè nell'ultimo anno e mezzo credo che abbia riempito qualsiasi cosa. Ma perché se no merita? Perché alla fine noi siamo sempre a paragonarci con quelli che su Instagram mettono la villa con la piscina e poi magari li arrestano perché hanno truffato un centinaia di persone. Max è onesto. Max si mette sulla sua Harley e ti dice vado a prendere il gelato. Cioè tutto quel genere di artiste lì, Paolo e Chiara che sono tornate adesso, mi piacciono tanto. Ci sono degli artisti che partono bene, poi si vendono alla moda, che non vuol dire che la moda non ci deve essere, però si staccano dal pubblico e allora aspetto che poi tornino perché poi fanno tutti così, si stacca un attimo dal pubblico, poi il pubblico manca e allora poi tornano e fanno dei pezzi ancora più belli. Quindi quando c'è il ritorno, almeno per me l'artista mi dà tutto. Qual è un ritorno che vorresti pensando, non so, alla tua musica con cui sei cresciuta? Un ritorno? Eh lo dico nello spettacolo di Take That, però tutti insieme. Eh lì però... Tutti insieme, non 4. Anche le Spice, tutte insieme. Cioè lì il problema, quando fai una reunion, eh se a me non siete tutti insieme non mi interessa niente. Anche le lollipop, no? E' di Torino, vero? No? Di Roma? Le lollipop. Ma pensa a te. Ah sei informato? Sei informatissimo. Ah, vedi? Le lollipop, che periodo stupendo. Che periodo totale ragazzi. A me quegli anni mi hanno fatto divertire troppo. Ma secondo me tutti, poi vogliamo tutti, credo che siano forse gli anni, non gli anni più nostalgici ma quasi. Noi eravamo spensierati. Cioè noi ancora non sapevamo che dovevamo pagare... Ma era prima di tutto, anche prima di vedere tutto, di condividere tutto, di... Sì era una cosa che c'è tu, vedevi cioè, stavi nella cameretta, registravi con la cassettina le canzoni, ma era bellissimo. Cioè era proprio un'altra... Adesso c'è il ritorno a queste cose perché ci vogliamo sentire un attimo ancora protetti come eravamo quando ero bambini. Quando eravamo bimbi. Sai che cioè esiste ancora? Esiste ancora. Oh, te lo giuro, esiste il cioè. Non ne avevo idea. Eh, con... Ma ancora con la copertina adesiva pure. Che io ho capito che c'è il tracollo di cioè quando non facevano più il... Le figurine che dovevi... Il taglio fra un personaggio e l'altro, era tutta adesiva, quindi tu dovevi ritagliarla. No, invece era bellissimo quando tu ne staccavi ogni personaggio. Io ho capito, ahia, stanno finendo i soldi. Quella cosa mi ha... mi ha fatto male. Io ho capito, ahia, stanno finendo i soldi.